Dalla collaborazione tra Comune di Bologna e molteplici realtà del territorio è nata Metti la mascherina e stacci dentro, campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini più giovani ma non solo, che ha coinvolto oltre 50 partecipanti e migliaia di votanti. Ha viaggiato sugli autobus Tiper e ha tenuto compagnia a chi aspetta la fermata. L'iniziativa è promossa dal Comune di Bologna, pensata e realizzata dall'area educazione, istruzione e nuove generazioni, dall'ufficio giovani, dai servizi educativi e scolastici dei quartieri, dalle cooperative sociali La Carovana e Open Group del consorzio Scooter e dall'associazione Oltre. Tanti ragazzi tra i 14 e i 19 anni hanno potuto presentare la loro idea di mascherina attraverso disegni e progetti grafici. Dal momento che è fondamentale indossarla perché non usarla anche per rappresentare la nostra personalità? Dopo aver coinvolto il rapper Smezzo e riunito telematicamente una giuria di ragazzi, la finale ha visto accendersi una guerrita sfida su Instagram e infine il verdetto è stato raggiunto. La mascherina ideata dal vincitore è stata stampata e il suo progetto sta viaggiando proprio in questi giorni sugli autobus. Inoltre i primi tre classificati riceveranno un voucher e una tavoletta grafica. Noi li abbiamo intervistati, ma prima un messaggio dell'assessore alle politiche per gli adolescenti, i giovani e la famiglia Elena Gaggioli, che ha promosso il contest. Io inizio con un grandissimo grazie a tutti i partecipanti perché sono arrivati dei lavori straordinari e ovviamente all'ufficio Informa Giovani che ha organizzato il contest. Come dicevo sono arrivati dei lavori bellissimi non solo dal punto di vista creativo, ma anche dal punto di vista dell'impegno per la comunità. Quindi io spero che insomma questa sia la partenza per un lavoro più importante insieme al comune degli adolescenti, in modo da coinvolgerli sempre di più e in modo da responsabilizzarli coinvolgendoli, facendoli partecipare perché la partecipazione porta anche responsabilità. Complimenti al vincitore, ma complimenti a tutti perché insomma veramente è stato, la giuria ha trovato difficoltà a scegliere il migliore ed è stato un bellissimo contest arricchito dal vostro lavoro. Grazie. Nome? Samuele. Età? 18. Saluta? Ciao. Come hai saputo del contest? Tramite la scuola Salisiani Bologna ce l'ha consigliato la prof. Qual è stata la prima cosa che hai pensato? Sicuramente di partecipare e provare a vincere. Racconta come è nato il tuo progetto, a che cosa ti sei ispirato insomma? Mi sono ispirato alle espressioni del viso che la mascherina le trascura, raffigurare le varie espressioni così che uno le può vedere anche se in realtà sono nascoste. Ormai è passato un anno dalla pandemia da coronavirus, qual è stata la cosa più difficile di questo periodo? Stare in casa, non poter vedere i propri familiari anche per proteggerli dal covid, avere paura di essere o asintomatici a attaccare il virus ad altre persone. E una cosa bella che ti è successa? Sicuramente vincere il concorso è stato molto bello. Dai un consiglio ai tuoi coetanei su come affrontare questa situazione? È difficile anche per me dirlo, perché comunque questa situazione lo sta vivendo anch'io. Io mi sfogo facendo sport tramite l'atletica, ognuno può trovare i suoi hobby per divertirsi. Tre tue caratteristiche che hai rappresentato nella tua mascherina? Beh, quello del sorriso secondo me è la migliore perché in questo periodo un po' di felicità bisogna vederla, va un po' ritrovata. Poi anche quello dell'urlo per sfogare le proprie emozioni se uno, non lo so, a una giornata no, mette quella dell'urlo. Invita chi ti sta ascoltando a mettere la mascherina. Dico a tutti di mettersi la mascherina per proteggere se stessi e gli altri e mettiti la mascherina e sacci dentro. Nome? Tanio. Età? 17. Saluta. Ciao. Come hai saputo del contest? Attraverso la scuola. Qual è stata la prima cosa che hai pensato? Ho detto proviamo a metterci in gioco e sembrava un'idea carina e quindi ho detto beh proviamo e alla fine ho avuto anche ottimi risultati quindi sono felice. Racconta come è nato il tuo progetto, a che cosa ti sei ispirato insomma? Allora mi sono ispirata alla bandiera italiana perché appunto l'abbiamo fatta qui in Italia. Poi mi sono ispirata a varie cose, mi sono ispirata al mio fratello, ai miei compagni di classe, ai miei amici che spesso quando non avevo idee mi hanno invogliata appunto a farla e non mollare, soprattutto anche agli insegnanti e sì a tutte le persone che mi hanno aiutato. Ormai è passato un anno dalla pandemia da coronavirus, qual è stata la cosa più difficile di questo periodo? Ovviamente quella più difficile è stare distante dalle persone che ci tieni, dai parenti, amici più stretti oppure dalla scuola visto che ormai è da un anno e mezzo che siamo in DAD. Qual è stata invece la cosa più bella che ti è successa? La cosa più bella sono queste esperienze qui che sto vivendo personalmente, ovvero della mascherina, però ci sono anche altre belle cose che sono successe oltre alla pandemia che ora la stiamo vivendo. Dai un consiglio ai tuoi coetanei su come affrontare questa situazione? Stare accanto alle persone che hanno magari dei parenti che sono affetti da questo virus oppure adesso siamo circondati dalla tecnologia quindi fare spesso videochiamate, non deprimersi perché è successo che molti si deprimessero oppure sì stare in famiglia. Tre tue caratteristiche che hai rappresentato nella tua mascherina? Voglia di affrontare, cioè voglia che finisca la pandemia, invogliare agli altri appunto di mettere la mascherina e libertà, cioè nel senso c'è lo spray che spruzza la frase, nel senso di eliminare proprio la pandemia insieme. Invita chi ti sta ascoltando a mettere la mascherina. Mettete la mascherina non solo per voi ma anche per la gente che vi circonda, metti la mascherina e staci dentro. Nome? Luigi. Età? 18. Saluta. Ciao a tutti. Come hai saputo del contest? Ho saputo del contest perché avevo già incontrato degli educatori sociali nel mio quartiere e loro sapevano di questa mia passione, poi io gestisco anche un brand e quindi mi hanno invitato a partecipare a questo concorso e ho colto l'occasione. Qual è stata la prima cosa che hai pensato? Quando l'ho visto ho pensato che comunque era una buona occasione per poter attestare le mie capacità, mettermi in gioco e potermi confrontare con altri ragazzi. Racconta come è nato il tuo progetto, a che cosa ti sei ispirato insomma? Diciamo che mi sono ispirato principalmente alla città di Bologna, nasce per sensibilizzare le persone durante un periodo come questo appunto di pandemia e quindi ho voluto utilizzare un personaggio molto noto nella nostra città come Lucio Dalla, accostato a una frase in dialetto bolognese che invita appunto le persone ad utilizzare la mascherina. Qual è stata la fase più difficile della realizzazione del tuo progetto? Solitamente, anche in questo caso, la fase più difficile è trovare l'idea iniziale oppure l'idea che mi convince più di tanto perché comunque il primo tentativo non è mai quello giusto e quindi sì, la parte più difficile è trovare l'idea che veramente mi può convincere. Ormai è passato un anno dalla pandemia da coronavirus, qual è stata la cosa più difficile di questo periodo? Sicuramente la cosa più difficile è quella di non poter uscire di casa durante la prima fase, lockdown totale e quindi sono venute a meno anche delle amicizie magari che frequentavo tutti i giorni quindi il lato umano si è un po' sgretolato. Però una cosa importante che ho imparato è che appunto noi non gestiamo il tempo quindi di fare tutto nell'immediato, fare tutto quello che si può fare subito e non rimandare al domani che può essere un'incertezza. Dai un consiglio ai tuoi coetanei su come affrontare questa situazione? Sicuramente con positività perché comunque è un periodo e come tutti i periodi finirà e niente, di andare avanti e arriverà la nuova normalità, quella che tutti abbiamo sempre vissuto. Tre tue caratteristiche che hai rappresentato nella tua mascherina? Allora appartenenza alla città, sensibilizzare le persone e magari cercare di creare un gruppo, creare un brand dietro a una cosa, quindi fare aggregazione e cercare di andare tutti insieme avanti. Invita chi ti sta ascoltando a mettere la mascherina. Ok ragazzi mettete tutti la mascherina perché solo così si potrà andare avanti e superare questa fase. Metti la mascherina e stacci dentro. Metti la mascherina e stacci dentro.